Dalle 7 di questa mattina è stato chiuso al traffico il tratto di via Mari che collega via Crispi a via Principe di Scordia. L'ordinanza del comune è stata avviata, anche se con un giorno di ritardo, per permettere i lavori dell'anello ferroviario, lavori che dureranno complessivamente 11 mesi. Nei prossimi giorni la Tecnis, la società incaricata, scaverà la galleria in cui dovrà passare il treno che collegherà alcune zone del centro, stazione Notarbartolo, via Imperatore Federico, Giaccheri, Porto, via Mari e Politeama. Andando ai percorsi alternativi, chi dovrà risalire da via Crispi potrà percorrere via Benedetto Gravina sino a Piazza Sturzo. Un'altra possibilità è immettersi in via Stabile via Michele Amari, via Miraglio Gravina e via Roma, mentre per andare in direzione via Crispi potrà immettersi in via Belmonte. La chiusura di via Amari non ha lasciato indifferenti i commercianti della zona, già preoccupati della probabile perdita di guadagni nel periodo natalizio.